Questa conferenza rappresenta un momento molto importante per il settore dell'economia, in particolare anche per il settore energetico, soprattutto per affrontare i temi della decarbonizzazione e della transizione energetica. La decarbonizzazione, che ovviamente si può declinare in varie iniziative, è molto importante l'iniziativa ovviamente economica, come per esempio l'attivazione e la mobilizzazione di 100 miliardi di dollari destinati al Green Climate Fund e al trasferimento delle tecnologie pulite. Sono due aspetti molto importanti che dovrebbero indirizzare il settore energetico verso una completa decarbonizzazione, ovviamente insieme allo sviluppo delle fonti rinnovabili e a iniziative, diciamo, sull'efficienza energetica. Per quanto riguarda la transizione energetica, in particolare Edison è molto impegnata nello sviluppo delle iniziative legate all'utilizzo del gas naturale, sia come combustibile di transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio, sia come combustibile per l'uso nel trasporto pesante, di lungo raggio, attraverso l'utilizzazione del gas naturale liquefatto, sia nel trasporto terrestre appunto di grande percorrenza, sia per il trasporto marino. Sono due iniziative molto importanti. Un'altra iniziativa significativa che penso sia utile sottolineare è quella della cooperazione, cooperazione internazionale attraverso il quale si cercano di fornire strumenti utilissimi per l'adaptation e per la mitigazione dei cambiamenti climatici.